Giovanni De Palma, dopo un anticipo di primavera, nelle prossime ore in Abruzzo tornerà il pieno inverno? Eh sì, perché saremo interessati da un'intensa perturbazione di origine nordatlantica, sospinta da masse d'aria fredda di origine polare marittima, che a partire dal pomeriggio inizierà ad interessare la nostra regione, a partire dal settore occidentale, quindi dalla Marsica e dall'Aquilano, dove già nel corso del pomeriggio, tardo pomeriggio, ci saranno delle piogge, anche dei temporali, e inizialmente la neve cadrà intorno ai 1.200-1.400 metri. Entro la sera la nuvolosità e i fenomeni si estenderanno anche verso il settore orientale, anche se inizialmente non saranno fenomeni intensi, ma a carattere sparso. Il peggioramento vero e proprio, la fase più intensa di questo peggioramento, l'avremo nella giornata di giovedì, a partire dalla mattinata, quando assisteremo all'approfondimento di una vasta circolazione depressionaria proprio sulle regioni centrali, di conseguenza sulla nostra regione, in particolar modo sul versante orientale della nostra regione, assisteremo un'ulteriore intensificazione dei fenomeni, quindi piogge intense, persistenti, localmente anche di forte intensità, lungo la fascia costiera, con un deciso rinforzo dei venti di Bora, che determineranno violente mareggiate, ma anche una sensibile diminuzione delle temperature, e a causa della sensibile diminuzione delle temperature, la quota neve tenderà gradualmente ad abbassarsi, entro la serata e la nottata di giovedì, intorno ai 300-400 metri, e sono previste copiose nevicate sui nostri rilievi, nonché sulle zone collinarie e pedemontane che si affacciano sul versante orientale, al di sopra dei 500 metri. La neve non arriverà sul mare, potrebbe essere anche episodica, comunque farla comparsa mista a pioggia, ma la caratteristica di questo peggioramento sarà appunto il vento forte, previsto in rinforzo nella giornata di domani, con delle mareggiate, ma attenzione anche con delle piogge intense, persistenti almeno fino alla tarda mattinata di venerdì. Poi non è che il tempo migliore, continueremo ad essere interessati da un flusso di correnti fredde di origine continentale, di conseguenza le temperature si manterranno ancora piuttosto basse e al di sotto delle medie stagionali e ci sarà spazio ancora a delle precipitazioni che date le basse temperature previste potranno essere nevose ancora una volta a quote collinari. Per chiudere il 21 marzo, arriva la primavera, ma bisognerà ancora attendere per un deciso cambio delle condizioni meteo, oppure no? Eh sì, bisogna attendere perché spesso la natura ci abituate a nuovi colpi di coda di invernali anche a primaveri inoltrati, quindi c'è ancora da aspettare.